Alle prime ore del mattino a Napoli, Benevento, Acerra, Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna, Casa Marciano, Castelvolturno e Liscate, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distretto all'antimafia, a carico di 17 soggetti, di cui 14 destinatari di misura in carcere, 1 di arresti domiciliari e 2 di obbligo di presentazione alla APG, poiché gravemente indiziale si apparì o titolo di favoreggiamento personale aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi comuni e da guerra. L'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sotto la direzione della DDA di Napoli era stata originariamente avviata a seguito della latitanza di Salvatore Calabria, esponente apicale del crancamoristico De Sena, operante in Acerra, il quale, resosi irreperibile all'indomani della condanna all'ergastolo e delle missioni nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'omicidio di Giovanni Sodano, alias Ociucciaro, vittima di agguato camorristico avvenuto da Acerra in data 1 dicembre 1996, già esponente di vertice del contrapposto cramma di Nilo di Acerra, veniva infine tratto in arresto nel marzo 2015. Era stato infatti individuato a Roma mentre si trovava seduto ad un tavolino di un bar, in possesso di una carta di identità e di una tessera sanitaria contraffatte, nonché di quattro telefoni cellulari altrettante schede SIM fittiziamente intestate ad altre persone. La quasi totalità delle utenze telefoniche impiegate dagli indagati erano intestate a cittadini extracomunitari, evidentemente al fine di eludere indagini che gli stessi ritenevano di poter subire a proprio carico da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, gli incessanti accertamenti svolti hanno permesso di identificare gli effettivi utilizzatori dei numeri monitorati, come nel caso ad esempio di uno dei fiancheggiatori del Calabria, allor quando in occasione dell'arresto di quest'ultimo da parte dei carabinieri veniva trovato in sua compagnia. Non solo, il predetto immediatamente dopo l'arresto dell'attitante effettuava delle conversazioni telefoniche in cui dava l'annuncio e commentava l'evento. Finiva così la fuga del ricercato, il quale per diversi mesi si era sottratto alla cattura avvalendosi di persone di fiducia che gli avevano garantito supporto economico e logistico, impantinimento della propria rete di contatti e gli spostamenti necessari. A tal proposito, uno degli indagati, interfacciandosi con la compagna dell'attitante, contattava quest'ultimo alla ricerca di denaro utilizzando termini criptici. Ed ancora, tramite le utenze in uso dei propri fiancheggiatori, il Calabria riusciva a fornire indicazioni operative ai propri sodali. Inoltre, seppur in termini contenuti, Calabria si lamentava della condizione in cui si trovava e degli accorgimenti che stava adottando, confidando tuttavia anche nel fatto che con il trascorrere del tempo, a suo dire, sarebbe riuscito a delivitare la cattura. Le indagini inoltre consigliere di assicurare la giustizia dell'attitante e di individuare le persone che, con ruoli diversificati, avevano fornito supporto logistico ed economico al fine di agevolarne l'irreperibilità, hanno permesso anche di disarticolare due distinte organizzazioni criminali, dettite al traffico di cocaina e crack, attive principalmente nei comuni di Pomigliano d'Arco e Acerra. Erano infatti emessi dei contatti telefonici tra l'attitante Calabria di un soggetto, il cui monitoraggio telefonico aveva fatto emergere l'esistenza di una piazza di spaccio attiva nel comune di Pomigliano d'Arco e diretta da Ferretti Salvatore. Spesso i vari membri dell'organizzazione, dialogando con i propri acquirenti, utilizzavano termini criptici per indicare la sostanza stupefacente. Veniva inoltre rilevata la rottura tra Ferretti Salvatore e il suo sodale ed il passaggio di quest'ultima ad un'altra organizzazione, che permetteva di cristallizzare l'esistenza di un'ulteriore piazza di spaccio attiva alla Cerra e diretta da Finito Ciro, alias Nasegane. Nelle fasi che avevano contraddistinto tale spaccatura era emessa chiaramente anche una circostanza in cui Ferretti Salvatore, armato di Kalashnikov, accompagnato dal fratello Agnello, a sua volta in possesso di una pistola, insieme ad altri componenti del gruppo di criminale, si erano messi alla ricerca del traditore senza tuttavia riuscire a rintracciarlo.